Ciao ragazzi, oggi vedremo, come vi avevo promesso, un video sui monomi e sulle prime operazioni con i monomi. Apriamo il file che ho preparato, cominciamo a vedere i monomi. I monomi sono delle espressioni letterali contenenti numeri e lettere, come vedete. 3AB alla seconda, automaticamente significa che il legame esistente tra i numeri e le lettere, nel caso dei monomi appunto, è la moltiplicazione. E' come scrivere 3 per A per B alla seconda. I testi utilizzano questa modalità, non c'è nessun segno fra i numeri e le lettere, ma si intende il PER, la moltiplicazione. La parte numerica prende il nome di coefficiente. Le lettere, insieme delle lettere elevate a determinati esponenti, prende il nome di parte letterale. Abbiamo visto anche diversi tipi di monomi che possono essere simili quando hanno la stessa parte letterale. è il caso di questi monomi presenti nell'esempio. Guardate, la stessa parte letterale. XY terza, XY terza, XY terza. Quindi si parla in quel caso di monomi simili. Vediamo la somma algebrica dei monomi. Allora, per eseguire la somma algebrica dei monomi, logicamente, solo i monomi simili si possono sommare. E che cosa facciamo? La somma algebrica di due o più monomi simili è un monomio simile, come vedete, con la stessa parte letterale, avente per coefficienti la somma algebrica dei coefficienti. Quindi in questo caso, vedete, non ho fatto altro che trascrivere i coefficienti con i loro segni, eseguo la somma, più 3, più 5, più 8, più 8, meno 2, più 6, e ho mantenuto la stessa parte letterale. E questo è il risultato. È abbastanza semplice. Nel caso in cui i coefficienti dovessero essere frazionari, è la stessa identica cosa, con qualche operazione in più. Allora, in questo caso, vedete, ho raggruppato i coefficienti meno 3 quarti più 2 terzi, e mantenendo la stessa parte letterale, il risultato è questo qui. Meno 9 più 8 fratto 12, faccio il calcolo, perché ho trovato il minimo comune multiplo, 12 diviso 4 è 3, per meno 3 fa meno 9, 12 diviso 3 è 4, per più 2 fa più 8. Faccio la somma al numeratore, meno 9 più 8 fa meno un dodicesimo, a alla seconda, qui ho dimenticato di mettere alla seconda. Ok? Quindi è abbastanza semplice, sia nel caso di monomi con termini interi, sia nel caso di monomi con termini frazionali. Passiamo adesso al prodotto, che è anche un'operazione abbastanza semplice, per eseguire il prodotto di monomi si utilizza la prima proprietà delle potenze. Sicuramente ricordate che il prodotto di 2 è più potenza aventi a stessa base, quando è una potenza che ha per base a stessa base e per esponente la somma degli esponenti. Primo esempio di monomi con coefficienti interi, allora, meno 2 c alla terza d alla quarta, per meno 3 c alla seconda d alla terza. Anche qui eseguo prima il prodotto dei coefficienti, meno per meno più 2 per 3, 6. Vedete, le lettere risultano elevate alla somma degli esponenti, 3 più 2 nel caso di c, e 4 più 3 nel caso di d. Quindi il risultato più 6 a alla quinta d alla settima. ho sommato esattamente gli esponenti. L'altro caso relativo invece a monomi con coefficienti frazionari, meno 3 quinti m alla quinta n alla settima o alla seconda, per più 10 noni m alla terza n alla seconda. Anche qui, possiamo anche già da qui eseguire la semplificazione crociata, lo possiamo fare perché c'è il prodotto, 10 e il 5 lo possiamo semplificare per 5, sotto viene 1, qui sopra viene 2, qui il 3 con il 9 lo possiamo semplificare dividendo per 3, diviso 3, 1, diviso 3, 3, quindi il risultato, vediamo prima il segno, meno per più, meno, qui è rimasto soltanto il 2, 2 per 1 che è rimasto di qua fa 2, e qui è rimasto il 3, 3 per 1 che fa 3. Vediamo gli esponenti, quindi m elevato alla 5 più 3, n elevato alla 7 più 2, e poi o alla seconda. Qui devo immaginare la presenza di o elevato alla 0, quando faccio 2 più 0 è 2, quindi compare nel risultato anche la lettera o elevata alla seconda. Quindi è molto semplice. Ricordiamoci sempre la somma quindi di monomi simili è un monomio simile avendo la stessa parte letterale. Nel caso del prodotto è chiaro che la parte letterale cambia e non è un monomio simile a quelli dati, perché gli esponenti delle lettere devono essere sommati. Perfetto. Questa è una piccolissima lezione, alla prossima vedremo la divisione, la potenza di un monomio e le altre operazioni. Quindi rivedetevi questa cosa, come ripasso, alla prossima ragazzi. Ciao.